Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. E' l'universalità. Gli invitati sono tanti, ma avviene qualcosa di sorprendente. Nessuno dei prescelti accetta di prendere parte alla festa. Dicono che hanno altro da fare. Anzi, alcuni mostrano indifferenza e straneità, perfino fastidio. Dio è buono verso di noi. Ci offre gratuitamente la sua amicizia. Ci offre gratuitamente la sua gioia, la salvezza. Ma tante volte non accogliamo i suoi doni. Mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni materiali, i nostri interessi. E anche quando il Signore ci chiama al cuore, anche tante volte sembra che ci dia fastidio. Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che recapitano l'invito. Ma nonostante le mancate adessioni dei chiamati, il progetto di Dio non si interrompe. Di fronte al rifiuto dei primi invitati, egli non si scoraggia, non sospende la festa, ma ripropone l'invito allargandolo. Allargandolo oltre ogni ragionevole limite e manda i suoi servi nelle piazze e ai crocicchi delle strade a radunare tutti quelli che trovano. Si tratta di gente qualunque, poveri, abbandonati e diserdati, addirittura buoni e cattivi. Anche i cattivi sono invitati, senza distinzione. E la sala si riempie di esclusi. Il Vangelo, respinto da qualcuno, trova un'accoglienza inaspettata in tanti altri cuori. La bontà di Dio non ha confine e non discrimina nessuno. Per questo il banchetto dei doni del Signore è universale. È universale per tutti. A tutti è data la possibilità di rispondere al suo invito, alla sua camminata. Nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato o di rivendicare un'esclusiva. Tutto questo si induce a vincere l'abitudine di collocarci comodamente al centro, come facevano i capi dei sacerdoti e i farisei. Questo non si deve fare. Noi dobbiamo aprirci alle periferie, riconoscendo che anche chi sta ai margini, addirittura colui che è reggitato e disprezzato dalla società, è oggetto della generosità di Dio. Tutti siamo chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei confini della Chiesetta, la nostra Chiesetta peccoletta, non serve quello, ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni del Regno di Dio. Soltanto una condizione, indossarsi con l'abito annunziale, cioè testimoniare la carità concreta a Dio e al prossimo. Affidiamo all'intercessione di Maria Santissima i drammi e le speranze di tanti nostri fratelli e sorelli esclusi, deboli, recettati, disprezzati, anche quelli che sono perseguitati a motivo della fede. Invochiamo la sua protezione anche sui lavori del Sinodo dei Vespoli, riunito in questi giorni in Vaticano. Angelus Domini, Nusiavit Maria, et concepil de Spiritu Santo, Ave Maria, grazia plena, Domino Stecum, benedicta Tue in mulieribus, et benedictus frutto ventre Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, dunque in ora mortis nostre, Amen. Ecce Angela Domine, Ave Maria, grazia plena, Domino Stecum, benedicta Tue in mulieribus, et benedictus frutto ventre Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, dunque in ora mortis nostre, Amen. Ecce Angela Domine, e capitami in nomis. Ave Maria, grazia plena, domino Stecum, benedicta Tue in mulieribus, et benedictus frutto ventre Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, dunque in ora mortis nostre, Amen. Ora con nobis, Santa Dei Genitris, digne, ficciamo promissioni mus Christi. Grazie a Tua in quesum, o Domine, e menti vos nostri sin funde, utiangelo nunziante, Cristi, Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meios e crucem, a resurrezionis gloria perducamus, per eunde in Cristo un Domine un nostro. Amen. Gloria Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicuterati in principio, et nunc, et sempre, et in secola secolorum. Amen. Gloria Patria, et Figlio, et Spiritus Sanctus. Sicuterati in principio, et nunc, et sempre, et in secola secolorum. Amen. Gloria Patria, et Figlio, et in secola secolorum. Amen. Sicuterati in principio, et nunc, et sempre, et in secola secolorum. Pro fideli buc defuntis, recce meternandoranis Domine, requiescanti in pace, sin nome Domini benedictum, aiutorum nostrum in nomine Domini, benedicat Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, grazie. 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 Grazie.